Ora, o mai più, è il momento di cambiare. Di Tolci si spoglia di tutti i simboli dei partiti. Sarà il sindaco di tutti e starà insieme alla gente per raccogliere informazioni, notizie e consigli. Domenica 8 giugno alle elezioni comunali, vota Di Tolci come sindaco di Palma. Ora, o mai più. Grazie. 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 Grazie.